Peppino Cano, segretario provinciale della FIMMG, lamenta come ormai da almeno due anni molti paesi della provincia non dispongono del medico di famiglia. Questo ha portato a una situazione che sta diventando insostenibile, con un numero spaventoso di persone alla ricerca di chi possa fare loro ricette per medicinali salvavita. Ancora questo avviene in un'isola che vante il tasso di laureati in medicina più alta d'Italia per numero di abitanti. La carenza purtroppo di medicina generale nella nostra provincia, ma anche in tutta la Sardegna, adesso si è acquitta, è tanto tempo da 3-4 anni che noi come sindacato diciamo che la situazione è grave. A questo punto c'è il nord oristanese che soffre tantissimo, anche coprendo le sedi che attualmente sono prive di medico di medicina generale, non si riesce a ricoprire tutta la popolazione. Ci sono intere zone come il barigado che sono prive di medico di medicina generale. Non si riesce a capire perché le istituzioni, soprattutto il direttore generale, l'assessore della sanità, non ci mettono a pezza su questa cosa. Noi come sindacato abbiamo fatto delle proposte precisissime. In comitato aziendale con Serusi abbiamo discusso di come si può ovviare e di come si può aiutare il medico di medicina generale a fare questo lavoro difficilissimo che ormai nessuno vuole fare. Abbiamo fatto delle proposte ben precise, ci dicono sempre che sì, va bene, si può fare, si può fare, però è in capo tutta la regione. Non si riesce mai a risolvere un piccolo problema. Nessuno si assume la propria responsabilità e i cittadini sono abbandonati a se stessi. Bisogna convincersi che oggi se la professione del medico di medicina generale non è attrattiva per i giovani bisogna fare in modo che lo diventi e quindi bisogna dare degli incentivi, delle possibilità di lavoro più facili, più semplici in modo che il medico di medicina generale non sia come oggi oberato di lavoro dalle 7 del mattino alle 11 di sera.